Nube tossica, sequestrato il sito, la procura indaga sulle cause del disastro di Piano d'Ardine e utilizzerà le immagini del drone per cercare la verità. Rassicuranti i primi dati ARPAC dalle centraline fisse, mai superati i livelli di allarme. Residenti polemici, nessuno ci ha dato notizie. Il vice governatore Bonavitacolo avverte che lo stir va riaperto subito. Battipaia, un piano per evitare altri rughi. Stop all'occupazione dello stir, ma i comitati non si fidano e attendono impegni precisi per bloccare definitivamente nuovi impianti rifiuti nella piana. Chiesti più controlli alle aziende per scongiurare altri disastri. Camorra, anche Ficco, difende la fondazione. Dopo l'atto intimidatorio contro il centro che si occupa dei bambini e del rione Villa San Giovanni a Teduccio, interviene il presidente della Camera. Episodio grave, bisogna difendere una realtà eccezionale. Offese alla famiglia con bimba Down. E' polemica a Benevento per le ingiurie che i familiari di una bimba con sindrome di Down avrebbero ricevuto durante una visita al Teatro Romano. L'episodio denunciato su Facebook dal direttore dell'area archeologica, le scuse e l'avvio di un'indagine interna. De Luca all'attacco di PD e 5 Stelle. Il governatore regionale non fa sconti all'alleanza giallorossa. C'è la sensazione amare, accusa De Luca, di un'operazione politica trasformistica. Se non fanno le riforme, meglio che vadano a casa. Whirlpool si ferma, intervenga il governo. Uno stop di 5 giorni per lo stabilimento di Viargine, per una contrazione dei volumi produttivi. Sale la tensione tra dipendenti e una provocazione. Intanto Landini chiede l'intervento di Conte. Deve salvare gli operai. Buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con l'incendio alla fabbrica ICS di Piano D'Ardine. L'azienda che produce involucri di plastica per batterie di auto. Il rogo di ieri ha sprigionato una grossa nube nera. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio. Ma vediamo com'è la situazione adesso davanti alla fabbrica del centro industriale di Avellino. Angelo Giuliani. Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Vedete queste immagini? Sono i vigili del fuoco che in questo momento stanno procedendo a scoperchiare una porzione del tetto dell'ICS perché ci sono delle intercapedini con del catrame che rischierebbe di prendere ancora fuoco. Anzi, ha già preso fuoco, come vedete dalle immagini. Quindi bisogna eliminare queste intercapedini ed eliminare una porzione del tetto della fabbrica. Sono presenti anche i proprietari dell'ICS durante queste operazioni. Erano presenti anche stamattina durante le operazioni di sequestro del sito che è stato sequestrato dalla procura della Repubblica di Avellino. Naturalmente adesso, dopo lo spegnimento del ruogo, si passerà alla fase delle indagini per capire la natura del ruogo. Gli inquirenti non tralasciano nessuna pista, neanche quella dolosa, anche se le circostanze in cui è maturato questo incendio in pieno giorno con gli operai all'interno sicuramente non fanno propendere per la pista dolosa, ma come dicevo prima non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto c'è anche il sindaco Gianluca Festa che contiamo di avere tra qualche minuto al nostro microfono. Stamattina è stato qui il vice governatore Fulvio Bonavitacola, anche per capire la situazione dello Stir che ieri ha temporaneamente chiuso i battenti e bisognerà capire poi quando riaprirà. Sicuramente i primi dati che arrivano dalle centraline dell'ARPAC sono rassicuranti, a confermarlo anche il commissario straordinario ARPAC Stefano Sorvino. Ma eccolo il sindaco Gianluca Festa, buon pomeriggio sindaco. Allora innanzitutto la sollecitazione che arriva da tanti cittadini è questa. Dobbiamo rimanere ancora con le porte chiuse, con le finestre chiuse, possiamo uscire. Cosa devono fare i cittadini di Avellino? Siamo in attesa chiaramente di ricevere i dati ufficiali dell'ARPAC. In questo momento è in via precauzionale, io raccomando ancora di tenere le finestre e i balconi chiusi e di uscire per le questioni strettamente necessarie. Non bisogna drammatizzare né sottolotare. Calma, pazienza, siamo sul pezzo, stiamo seguendo da vicino non solo quello che sta accadendo qui rispetto allo spegnimento dell'incendio, ma anche quello che accadrà da oggi per proseguire a domani e in futuro relativamente al suolo, all'aria, alla eventuale contaminazione della comunità. Sto immaginando di istituire un tavolo tecnico proprio per effettuare queste verifiche nei prossimi giorni. Il nostro unico interesse è salvaguardare l'incolumità della comunità e chiaramente preservare la salute di ogni mio concittadino. Dunque stiamo lavorando per garantire tutto questo a voi. Dai dati ARPAC dipende anche la proroga dell'ordinanza per la chiusura di scuole e uffici per la giornata di lunedì? Assolutamente sì, è evidente che prima di verificare questi dati non potranno essere assunte decisioni ma siamo fiduciosi che nella giornata di domani questi dati potranno aggiungerci e quindi adotteremo poi le azioni conseguenziali. Grazie, grazie al sindaco di Avellino Gianluca Festa. Sospesi anche tutti gli eventi, almeno fino a martedì, dell'Avellino Summer Fest. Allora Paola, possiamo andare a vedere il primo servizio in cui facciamo un po' il punto della situazione anche con il comandante dei Vigili del Fuoco, Luca Ponticelli e come dicevo prima con le dichiarazioni di Sorvino e del vice governatore Bonavitacola. Il servizio. Tutti entro i limiti i dati relativi all'incendio della fabbrica ICS a piano d'ardine. Per ora la situazione sarebbe sotto controllo. Per l'analisi delle diossine si dovrà aspettare al massimo dopo domani. A confermarlo il commissario straordinario ARPAC, Stefano Sorvino. Non vi è uno sforamento significativo, quindi sono dati per il momento e con tutte le cautele e le riserve del caso relativamente tranquillizzanti. Noi contiamo tra il tardo pomeriggio della giornata di oggi e domani di avere i primi dati validati relativi alla rilevazione dell'inquinamento atmosferico e delle polveri. E sono stati altresì posizionati i campionatori per la rilevazione delle diossine sulle potenziali aree di eventuale ricaduta. Naturalmente i dati relativi alle diossine saranno regionevolmente disponibili tra domenica sera e lunedì mattina. Intanto i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli ultimi focolai all'interno dello stabilimento. Poi si indagherà sulle cause. Siamo ancora impegnati con le nostre squadre sulle operazioni di estinzione. Dopodiché ragioneremo sulle cause a bocce più ferme. Essenzialmente si tratta di plastica e di legname, dei pellet che sostengono gli accatastamenti di semi lavorati in plastica. Abbiamo rischiato un pochettino per poterlo fronteggiare. Stamattina sopra luogo sul sito che nel frattempo è stato sequestrato del vice governatore Bonavitacola anche per capire la situazione dello stir che ieri è stato precauzionalmente chiuso. Lo stir ha bisogno presto di tornare ad operare perché è il terminale dove confluiscono i rifiuti indifferenziati dei comuni quindi l'effetto poi sarebbe a catena in negativo. Lo stir si colloca a metà strada tra il conferimento dei comuni e il trattamento al termovatorizzatore di Acerso. Quindi indipendentemente dal fermo lo stir deve riprendere l'attività. Poi il fatto che non può conferire determina un fabbisogno di deposito temporaneo. E allora l'incendio è quasi del tutto domato come dicevamo prima e come vedete dalle immagini si sta lavorando a questa porzione di tetto per liberarlo dalle guaine con del catrame che rischia di prendere ulteriormente fuoco ma è comunque stata superata la fase di prima emergenza ma qui nella zona di Piano Dardine in Contrada Fasano dove ci troviamo la paura è stata tanta. Abbiamo realizzato un altro contributo stamattina con i residenti della zona. Abbiamo intervistato una famiglia che abita nel primo palazzo più vicino alla ICS. Ripeto lo spavento è stato notevole e abbiamo sentito anche un ambientalista il dottor Franco Mazza da sempre impegnato per la salvaguardia di questo territorio la Valle del Sabato. Allora vediamo anche questo secondo servizio poi linea a te allo studio Paola. La grande nube di fumo che ieri ha avvolto Avellino l'ha resa una città spettrale tra la gente scoppiata la psicosi caccia le mascherine nelle farmacie per poter respirare senza i fumi sprigionati dalle fiamme. Nella zona dell'ICS incontrada a Fasano a Piano Dardine la paura è stata tanta ci raccontano la signora Emma e la nipote Lorenza. È stato spaventoso perché noi vedevamo le fiamme che arrivavano qua e una nube nera che non si vedeva niente. È stato tremendo. A parte l'odore poi c'era un calore che mancava il respiro perché noi là per là siamo usciti fuori per vedere ma ci siamo rientrati subito. ne siamo attappati dentro ecco da ieri alle due. A noi comunque non ci hanno proprio pensato nessuno ci ha detto che ce ne dovevamo andare nessuno ci ha detto niente. Noi abbiamo preso i bambini anche gli altri nel condomino e ce ne siamo andati perché abbiamo sentito degli scoppi fortissimi che i vetri hanno tremato e ce ne siamo scappati però nessuno ci ha calcolato qua. Gli ambientalisti dal canto loro parlano di disastro annunciato ora si impone una seria riflessione su come intervenire in quest'area già pesantemente gravata da una questione ambientale e il dottor Franco Mazza del comitato Salviamo la Valle del Sabato nonostante i primi dati rassicurino si aspettava tempi più celeri per il posizionamento della centralina mobile all'ospedale. Mi sarei aspettato per la verità una maggiore tempestività nel posizionamento della centralina magari senza aspettare ieri sera alle 11 mezzanotte ma già verso le 3 le 4 se ci si attivava subito la si poteva posizionare forse sarebbe stato più utile. Stop all'occupazione dello stir di Battipaia ma i comitati non si fidano e attendono impegni precisi per bloccare definitivamente nuovi impianti e rifiuti nella piana. Chiesti anche più controlli alle aziende che operano sul territorio per evitare roghi come quello disastroso avvenuto alla MGM. Sentiamo. Una fiducia a tempo condizionata dai provvedimenti che saranno adottati da provincia, ente d'ambito e regione. Battipaia ha rimosso il blocco allo stir deciso all'indomani dell'ennesimo rogo di un'azienda che tratta rifiuti speciali e che ha sollevato timori legati alla diossina. Comitati e residenti attendono lunedì per vedere attuato l'impegno sottoscritto ieri a Palazzo Sant'Agostino che dice no a nuovi impianti e rifiuti sul territorio e allo stesso tempo vieta l'ampliamento di quelli esistenti. Noi cosa possiamo fare essendo un'area industriale idonea ad accogliere aziende che trattano rifiuti? Definire la nostra area satura e come l'abbiamo fatto? Prendendo il criterio localizzativo che ormai da qualche anno a questa parte altre regioni, anche c'è un dibattito a livello nazionale, anche se è rimasto solo un disegno di legge, ha definito questo indice di concentrazione fattore di pressione, che non è altro che dire rispetto al volume di rifiuti concentrati sulla superficie comunale spessa in chilometri quadrati non autorizzo più altre richieste di aziende che trattano rifiuti. La priorità ora è mettere in campo tutti i controlli necessari per le aziende di battipaglia con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli impianti che trattano rifiuti e quindi della salute dei cittadini. Chi non si adegua entro 90 giorni alla notifica del controllo ha la revoca dell'autorizzazione. Questo aspetto dell'antigendio, con i controlli anche a livello urbanistico, così come il blocco delle nuove utilizzazioni per un indice di saturazione definito appunto fattore di pressione, penso che siano le coordinate per governare il nostro territorio, perché in fondo la grande sfida è questa, che tutti insieme, i cittadini in alleanza tra istituzioni anche a livello superiore, riprendono il controllo del proprio territorio. Questa è l'unica risposta da dare rispetto alle vicende che stiamo vedendo, anche pericolose per la salute e l'ambiente. Di vieto di ingresso alle Treccine Blu, con questa motivazione a uno studente tredicenne dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpa Carlo Levi di Scampia a Napoli è stato impedito di entrare a scuola. Chi le porta è un ignorante. La giustificazione della dirigente scolastica Rosalba Rotondo a denunciare per primo l'accaduto su Facebook il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sul caso ha assicurato il suo intervento la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, la francese, che ha però confermato piena fiducia nella preside. Proiettili contro la fondazione che aiuta i bambini in difficoltà. Ieri a San Giovanni a Teduccio è arrivato anche il presidente della Camera, Roberto Fico, a dare supporto all'associazione. Vediamo. A San Giovanni a Teduccio, il giorno dopo l'attentato intimidatorio ai danni della fondazione che aiuta i bambini in difficoltà, c'è tanta rabbia per quello che è accaduto. Il pull antica morra della procura sta indagando per riuscire a risalire agli autori al movente di tale gesto. Ieri il presidente della Camera, Roberto Fico, è giunto sul posto per dare supporto alla fondazione. La fondazione di Maria è una realtà importantissima, fondamentale per la zona, che aiuta le famiglie, aiuta i minori e quindi va tutelata, va aiutata e soprattutto ci vuole uno scudo assoluto a difesa di questa fantastica fondazione che fa un lavoro eccezionale. Quando noi andiamo a riprendere i ragazzi dalle periferie o da quei luoghi e cerchiamo di rimetterli in una strada giusta nella società, è lì che la camorra si indebolisce ed è lì che noi sconfiggiamo la camorra. L'unico modo che abbiamo per sconfiggere la camorra è spezzare la catena e riuscire laddove lo state rassente a farlo essere presente insieme a tutte le realtà e far sì che ci sia una nuova storia. Ed è quello che la fondazione fa e noi siamo vicini alla fondazione. lo sapete io, è nato anche il Presidente della Repubblica, continueremo su questa strada senza fermarci, come ci siamo detti. Un uomo di 31 anni è stato ferito a una gamba alle 5 di questa mattina a colpi d'arma da fuoco in Biakton a Napoli, ricoverato all'ospedale e lo ritomare. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'uomo ha riferito che era a bordo della sua auto quando ha avuto una discussione con altri automobilisti. Uno di questi ha estratto la pistola e lo ha ferito. Sul caso ora indaga la polizia. È polemica, Benevento, per le offese che la famiglia di una bimba con sindrome di Down avrebbe ricevuto durante una visita al Teatro Romano. L'episodio è stato denunciato su Facebook. Ci hanno urlato mongoloidi dal direttore dell'area archeologica. Le scuse e i chiarimenti. Sentiamo. Imbecilli, mongoloidi, sono le offese che una famiglia con una bimba con sindrome di Down si è sentita rivolgere ieri sera durante la visita ad un sito culturale. Lo sconcertante episodio è accaduto al Teatro Romano di Benevento che sta ospitando un percorso di visite serali guidate multimediali. A raccontare la vicenda su Facebook, la zia della piccola che chiarisce come al diniego del marito di seguire l'itinerario della visita guidata perché le bambine avrebbero solo voluto osservare per pochi minuti il teatro, un uomo lì in servizio li avrebbe offesi urlando mongoloidi e ripetendolo anche dopo avergli fatto notare la presenza della piccola. Quanta amarezza, commenta la donna. Un episodio sul quale arrivano immediate le scuse di Ferdinando Creta, direttore del Teatro Romano. I fatti accaduti ieri sera, spiega, durante uno degli appuntamenti della rassegna a Benevento città-teatro e a me segnalati sono di una gravità inaudita. Non solo mi dissocio da qualsiasi atteggiamento irrispettoso, da chi che sia posto in essere, ma avvierò immediatamente un'indagine interna per verificare l'accaduto, anche se mi sento di escludere che si tratti di persone stabilmente inserite nella struttura del Teatro Romano. Da direttore di uno spazio che trasuda bellezza e cultura, sento su di me il peso delle riferite mi offese arrecate ai visitatori coinvolti nell'accaduto. E a loro chiedo scusa, prendendo le distanze da gesti e parole pronunciate, di tanto risponderà solo chi se ne è reso autore. Faccia a faccia con una anaconda lunga 7 metri sono le incredibili immagini del fiume Formoso in Brasile e del sub avellinese Bartolomeo Bove, trasferitosi in Florida nel 2005. L'impresa compiuta dal sub è stata ripresa da tutti i canali mondiali. Bove e Shark Diver, professionista e videografo subacqueo di 39 anni, si è trovato faccia a faccia con l'anaconda gigante, un'esperienza unica nel suo genere. Lo scorso luglio, mentre faceva un'immersione nelle acque del fiume brasiliano, insieme a un collega il ragazzo ha filmato il curioso incontro. Quella che si vede nel video spiega è un'esemplare femmina di 7 metri e di circa 90 kg di anaconda verde, la più grande fra le quattro specie di anaconda. Le immagini mostrano il serpente che nuota tranquillo nel fiume, completamente indifferente dalla nostra presenza, anche se ogni tanto si avvicina alla telecamera, incuriosito. Il suo comportamento sostiene Bove, sfata il mito secondo il quale l'anaconda sia una creatura aggressiva e violenta che può mettere in pericolo la vita delle persone. Dopo anni di insulti, solo due settimane per mettersi d'accordo, sembrano una truffa politica. Vincenzo De Luca lancia abbordata a PD e 5 Stelle dopo l'intesa per il nuovo governo e accusa, sento puzza di imbroglio, subito le riforme o è meglio andare a casa. Sentiamo. Se non è una sonora bocciatura, poco ci manca. Di sicuro è la testimonianza emblematica dello scetticismo che accompagna, almeno in Campania, la nascita del nuovo governo PD, Movimento 5 Stelle. Il governatore Vincenzo De Luca, protagonista in questi anni di feroci scontri verbali proprio con i grillini, non ha mai nascosto le sue perplessità sull'intesa romana e, nel consueto appuntamento settimanale in onda sull'Ira TV, ha ribadito ancora una volta che bisognerà convincere della bontà dell'operazione non solo gli elettori di centro-sinistra, ma in primis lo stesso governatore, il quale non ha risparmiato bordate non solo ai 5 Stelle, ma anche al suo partito, il PD. Non posso non rilevare che c'è un elemento anche negativo, critico, ed è la sensazione amara di un'operazione politica trasformistica, finta, non sincera, messa in campo da Partito Democratico e 5 Stelle. Se hai alle spalle 10 anni di aggressione verbale e politica e in due settimane si cancella tutto, è evidente che rimane un dubbio di non sincerità, di trasformismo, di imbroglio politico. Uno stop di 5 giorni per lo stabilimento Whirlpool di Via Argene per una contrazione dei volumi produttivi. Landini da Napoli, dice il governo, si impegni per salvare gli operai. Sentiamo il servizio. Informiamo i dipendenti che per una contrazione dei volumi produttivi la prossima settimana la fabbrica è chiusa in solidarietà. Così agli operai Whirlpool è stato comunicato lo stop improvviso delle attività dal 16 al 20 settembre. Un altro colpo di scena per lo stabilimento di Via Argene che sospende la produzione per 5 giorni. Martedì pomeriggio l'azienda e i sindacati saranno al Ministero dello Sviluppo Economico e intanto sulla questione c'è l'appello al governo dal segretario generale della CGL Maurizio Landini a Napoli per l'Assemblea Generale della Camera del Lavoro. Credo che ciò che finora hanno fatto i lavoratori anche assieme alle organizzazioni sindacali metalmeccaniche e non solo anche della città sia un'iniziativa molto importante. Come è noto qualsiasi posto di lavoro che perdi soprattutto nel mezzogiorno è perso per sempre e qualsiasi attività che cessa come si è visto è una perdita per il territorio e tutto il resto. Quindi quello rimane un punto molto importante e io credo che sia necessario che anche il nuovo governo assuma questa avvertenza come un'avvertenza importante e decisiva per trovare una soluzione che dia una continuità. E questa battaglia, questa lotta che i lavoratori di Napoli ma non solo, di tutto il gruppo stanno facendo credo che sia una battaglia importante e credo che sia utile continuare a muoversi per cercare di far capire anche al gruppo multinazionale che c'è bisogno di trovare delle soluzioni che siano diverse da quelle che finora lui ha pensato. Paolo Berti all'epoca del crollo del ponte Morandi direttore operazioni centrali di Aspi avrebbe mentito nel processo per la strage bus di Avellino e quanto emerge nell'ordinanza sui falsi report dei viadotti la circostanza emergerebbe da un'intercettazione tra Berti e Michele Donferri Mitelli ex responsabile nazionale manutenzione di Aspi Berti manifesta il disappunto per essere stato condannato a 5 anni e 10 mesi lamentandosi che avrebbe potuto dire la verità e così mettere nei guai anche altre persone l'altro risponde che non ci avrebbe guadagnato nulla mentre alla luce del suo comportamento può stringere invece un accordo col capo intanto proprio il suo capo direttore di Aspi dell'epoca Castelluccio al processo per la strage bus di Avellino è stato completamente assolto carezze e baci all'alunna di 14 anni arrestato un insegnante 57enne di Cava dei Tirreni vediamo il servizio lo hanno scoperto in un parcheggio appartato con una sua alunna 14enne arrestato con l'accusa di atti sessuali dalla polizia di Cava dei Tirreni un insegnante 57enne è stato sottoposto al regime dei domiciliari l'uomo si trovava nel comune salernitano in via Scheiber in un luogo isolato in auto con la sua allieva minorenne vittima del presunto orco in azione la polizia metelliana che nel corso di un'indagine coordinata dalla procura di Nocera Inferiore ha pedinato e seguito l'uomo per settimane secondo la ricostruzione degli inquirenti i due si sarebbero conosciuti durante l'anno scolastico il professore è in servizio presso una scuola superiore poi l'epilogo nella serata di mercoledì scorso quando in un'area parcheggio i due sono stati sorpresi in atteggiamenti equivoci dalla polizia il 57enne avrebbe fatto sedere a Cavalcioni su di lui la minorenne per poi accarezzarla sui fianchi e baciarla sulla bocca a questo punto gli agenti sono intervenuti eseguendo l'arresto all'indagato è stata contestata anche l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una minorenne a lui affidata per ragioni di istruzione avendo approfittato di circostanze di tempo luogo età della persona offesa tali da ostacolarne la pubblica e privata difesa Economia inquinata dalle mafie tra Campania e Puglia l'allarma arriva dal procuratore nazionale antimafia Cafiero Derao intervistato da Gianni Vigorossi Economia italiana sempre più inquinata dalle mafie spesso agevolata dalle istituzioni una zavorra un male da estirpare distruggere ben radicato in un territorio appetibile crocevia tra Campania e Puglia lo ha detto il procuratore nazionale antimafia antiterrorismo Federico Cafiero Derao nel commentare il protocollo d'intesa per lo sviluppo del mezzogiorno sottoscritto da diversi sindaci delle due regioni ad Accadia in provincia di Foggia la Puglia e la Campania sono due regioni fortemente inquinate dalle mafie Camorra e mafia foggiana la organizzazione criminale che deriva dalla Sacra Corona Unita che esercita le proprie attività con infiltrazioni anche nell'economia è fortemente combattuta dalle procure distrettuali dalle forze di polizia però è necessario che il cittadino sia in grado di svolgere anch'esso un ruolo che consenta di rendere più efficiente l'azione di repressione in modo da svilupparla sull'intero territorio anche evidenziando le sacche più nascoste di inquinamento mafioso Il caso della piccola Maria la bambina romena violentata e annegata in una piscina nel 2016 nel Sannio i periti chiedono più tempo per presentare le nuove analisi sul caso sentiamo Era stato fissato per il 17 settembre ma è destinato ad essere rinviato l'incidente probatorio fissato su iniziativa del procuratore aggiunto Giovanni Conso nell'inchiesta sulla morte di Maria la bimba di 9 anni che il 19 giugno del 2016 era stata trovata morta annegata nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino nel Sannio lo slittamento è stato chiesto dai periti ai quali il GIP Giuliana Giuliano aveva affidato l'incarico di procedere ad una serie di accertamenti agli esperti serve più tempo per depositare le loro conclusioni sulle analisi eseguite in questi mesi alcuni a Catania dove l'attenzione è puntata su 32 vetrini relativi ai vari tessuti selezionati durante la prima autopsia curata tre anni fa altri a Foggia con una ulteriore autopsia della Salma della Piccola riesumata e poi a Napoli per le estrazioni attraverso nuove metodiche di tracce utili di liquidi biologici su alcuni abiti sequestrati dai carabinieri e procedere poi così alla definizione del DNA un lavoro complesso nel corso del quale sarebbero stati superati tutti i problemi legati al rinvenimento di alcuni reperti operazioni curate alla presenza dei professori Fernando Panarese consulente di Daniel Ciocan indagato da oltre tre anni per omicidio e violenza sessuale Tatiana Mangiurlo e Marina Baldi per i genitori di Maria anche loro indagati da alcuni mesi per l'ipotesi di violenza sessuale McDonald's continua a investire sul territorio campano oggi al Via il Talent Day i potenziali candidati potranno presentarsi nei 600 ristoranti italiani protagonisti dell'iniziativa i dipendenti tra i sei scelti in tutta Italia per rappresentare l'azienda c'è anche un salernitano parte oggi una nuova campagna McDonald's in tutta Italia protagonisti dipendenti nuove opportunità programmi di formazione e percorsi di crescita professionale al Via il Talent Day iniziato alle 8 di questa mattina e che si concluderà in serata coinvolti 600 ristoranti italiani tra questi anche i 31 presenti in campania che apriranno le porte a potenziali candidati mille le nuove risorse da poter assumere nel 2019 oggi si presenta una nuova veste molto più moderna di McDonald's le figure professionali che oggi lavorano nel ristorante vanno evolvendosi in termini di accoglienza il ristorante cambia forma ma anche gli aspetti di formazione del personale testimonial d'eccezione del Talent Day sei dipendenti su scala nazionale che hanno fatto strada in McDonald's tra questi anche Luigi Barone il responsabile del ristorante di Salerno Mercatello sono 13 anni che lavoro in McDonald's che lavoro per la community cookie leader sono ben 13 anni ho iniziato tutto il percorso ho iniziato come crew poi ho fatto formazione passato a fare il manager dopodiché vice direttore e poi direttore ormai da quasi 5 anni su vari punti vendita e adesso sono quasi 3 anni e mezzo che sto sullo store di Mercatello il mio ruolo consiste in quello di cercare talenti di sviluppare persone fare formazione cercare persone che abbiano voglia di lavorare e di svilupparle la formazione è al centro di McDonald's della vita dei ragazzi che lavorano in McDonald's e oggi con il Talent Day apriamo proprio le porte a quei ragazzi che vorranno lasciarci il loro curriculum per poterlo esaminare e poter inserire questi nuovi talenti all'interno della nostra organizzazione e quando parlo di organizzazione parlo di un'impresa di un'impresa che ha ben chiaro quali sono i suoi obiettivi cioè portare i nostri giovani verso una formazione continua ed era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito grazie a tutti 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 grazie a tutti